Leonardo Di Santo, benvenuto nel Posto delle Parole. Buongiorno a te Livio, grazie per l'invito. È un piacere condividere questa storia perché nello sviluppo della narrazione di circa 250 pagine di questo romanzo pubblicato da Giulio Perron, editore, il romanzo che si intitola Il Valzer del Pappagallo e quindi ci fa, come dicevo, piacere condividere il piacere della lettura e poi sfogliando velocemente il libro. Uno degli esercizi che mi piace fare, che poi è un gioco più che un esercizio, è quello di sfogliare e vedere le sottolineature e poi fare che cosa? Questo sì che è un po' al limite del banale. Incominciare a leggere la prima sottolineatura e andare avanti solo con le sottolineature, quindi creando una specie di testo di filo conduttore con delle notazioni, perché a volte, non so se succede anche per gli scrittori, a volte si fanno delle sottolineature, a volte mi succede prendendo un libro che ho letto da tanti anni, lo guardo e vedo una sottolineatura e mi dico, ma perché questa sottolineatura? Capita anche a Leonardo Di Santo questa cosa? Capita, anzi ti dirò, se compro dei libri anche usati mi piace tantissimo leggere anche gli appunti altrui, è una cosa che oltre alle sottolineature, ecco se ci sono degli appunti ovviamente quello che dici tu è anche facilitato, nel corso degli anni uno capisce quali erano i pensieri di quegli anni lì, però capita, ultimamente mi è capitato di acquistare un libro da un banco delusato, erano più gli appunti delle riflessioni che le sottolineature, e devo dire che questa cosa mi affascina molto, soprattutto dei libri che si trovano, ecco, in dei banchi usati, oppure delle fiere, come c'è stata una fiera del libro a Bologna la settimana scorsa, mi è capitato proprio di trovarlo lì. Eh sì, poi c'è anche il problema della leggibilità, perché a volte uno scrive di genere, e c'è questo esercizio nella... La mia non si capirebbe per niente, guarda Livio, assolutamente. Leggo nel risolto di copertina che Leonardo Di Santo, romano, si laurea con una tesi sulla scrittura bebop di Jack Kerouac all'Università della Sapienza di Roma, poi si trasferisce a Budapest dove lavora a una biblioteca universitaria, adesso vive a Roma. Ora, entriamo, seppure brevissimamente sulla scrittura bebop, qualcuno dei nostri ascoltatori si potrà chiedere, ma bebop, questo mi dà un senso di musica, più che di scrittura, e invece... Di musica, di ritmo, soprattutto di ritmo, di punteggiatura, ecco, quella era una scrittura veramente che faticavi, alcuni faticano a leggerla, altri invece faticano ad interrompere la lettura, no? Perché se ci si immagina il bebop di quei tempi, quindi sotto palco, all'interno di uno dei locali con tutti i jazzisti, veramente lì era bellissimo ballare, condividere quei momenti lì. Kerouac all'epoca è stato anche in grado di riportarla tramite, appunto, sulle pagine. In questo romanzo qui, Il Valser del Pappagallo, già appunto dal titolo, ma anche all'interno della scrittura, ho cercato di riportarla, di riportare questo ritmo da brevi frasi, da brevi capitoli, ecco quello che dicevi tu anche prima delle sottolineature. In certi versi, ecco, è un romanzo corale, è un romanzo orchestrato in maniera tale che appunto si hanno sei storie differenti che si intrecciano tra loro come un puzzle, però alla fine ci sono alcuni collegamenti anche tra i vari capitoli che portano ad un finale, ecco, anche musicale, no? Potremmo dire. Eh sì, anche musicale, perché quando un romanzo riesce a trovare quella musicalità, quell'armonia, credo che abbia compiuto la sua missione. Poco fa Leonardo Di Santo parlava di queste storie che si riuniscono e io avevo davanti o davanti proprio l'immagine della copertina e quelle storie le ho viste in quella costruzione di questa gabbia. Ci vuoi raccontare l'idea e l'immagine di copertina? Allora, l'immagine di copertina, questa gabbia aperta, è nata un pochino dal, ecco, è contenuta anche all'interno del titolo, il pappagallo. C'è questo pappagallo, esiste, è reale, ecco, esiste, è in carne ed ossa ed è un pochino il filo conduttore tra tutte le storie. È una figura che compare come una vera e propria allegoria, no? È un'allegoria di cambiamento. Quando compare questo pappagallo, ecco, bussa, c'è un pochino da fermarsi e da domandarsi, ok, cosa sta succedendo. L'idea è un pochino nata dall'idea primordiale del pappagallo anche all'interno dell'arte in generale come annunciatore, no? Veniva utilizzato appunto come l'unico animale in grado di parlare, anche per sostituire nei dipinti l'arcangelo Gabriele. Quindi, insomma, una storia dietro e trattando anche, oltre che di Roma, perché è ambientato a Roma questo romanzo, ma una parte del romanzo, essendo la protagonista venezuelana e ambientata in Venezuela, uno degli animali più comuni, ma anche dei giochi, ti dirò, dei giochi più comuni, è il pappagallo, cioè appunto l'aquilone. Quindi c'era un filo conduttore dietro che mi ha portato più e più volte all'immagine del pappagallo. E poi ovviamente il Sud America con la musica, facendo un'unione, è uscito fuori questo titolo che ha poi portato a questa immagine di copertina che è una vera e propria liberazione, no? Solamente lo sportello aperto fa capire quanto anche per me sia stata una liberazione, una liberazione, una soddisfazione vedere tutte le storie compiute alla fine, perché il lavoro, insomma, è stato un lavoro, è una bella sfida, piacevole, cercare di intrecciare tutte quante queste storie in modo positivo, in modo fruttuoso, ecco, non era scontato, però mi sono divertito. L'immagine rappresenta appunto questo, la liberazione, ok, l'opera è compiuta, adesso va e raggiungi più persone possibili. Però, però, per raggiungere quella liberazione, Ida Ira, spero, come la pronuncia esatta di Ida Ira, infatti, ne deve sopportare, perché la vita di questa donna, come ci viene raccontata in questo romanzo, è una vita che arriva da lontano, no? Arriva dal Sud America, dal Venezuela, è di professione biologa e qui si vuole, qui in Italia si vuole costruire più che ricostruire, perché ricomincia in pratica quasi da zero, ricostruire questa sua vita, perché non è che voglia dimenticare i traumi che ha vissuto, traumi che continuano. No, no, ne vuole, è vero. Lei vuole riscattare, in qualche modo, nella normalità di una vita, vuole riscattare tutto quanto, e il destino la fa incontrare con Luca, e da qui comincia la loro storia. È una storia d'amore, una normalissima storia d'amore, e come tutte le storie d'amore hanno quella straordinaria parentesi di bellezza, di affiatamento, però c'è sempre qualche cosa, c'è sempre qualche cosa che può spuntare nella negatività della vita, anche quando si è così felici perché si sta per mettere al mondo un figlio, e questo è il cammino di questa donna, e noi la seguiamo, noi la seguiamo pagina dopo pagina in questo romanzo alla ricerca di un tempo felice, la seguiamo solo per quello, Leonardo Di Santo. Si è trattato uno dei temi, perché poi ce ne sono più di uno, di microtemi all'interno del romanzo, come la solitudine, l'amore, la speranza, la morte e la felicità, e appunto Idaia, come hai detto tu, cerca di far tesoro un pochino delle sventure che le sono capitate in passato anche in Venezuela, e come dice Tolstoi, anche tutte le famiglie felici si somigliano, poi ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo, e qui l'originalità di questa sfortuna veramente di Idaire, che è proprio sul punto più bello di quando stava per svoltare di nuovo questa vita, che aveva trovato quasi per caso in un supermercato, ecco che poi si apre la vera trama che conduce poi al tema portante della storia, tema portante della storia, che è quello un pochino più protetto di tutti, quello finale della donazione degli organi. La donazione degli organi, ma ancora prima il tema suscita molta tenerezza, anche la parola compassione, ma nel senso proprio originale del termine, perché noi usiamo la parola compassione quasi in senso negativo, è patire insieme con questa persona, è il senso di solitudine, lei come dicevo voleva costruirsi questa vita, ma non ha avuto fortuna, e la solitudine è sempre lì presente, soprattutto dopo la scomparsa di Luca, e dopo la scomparsa di Luca però Luca le lascia per così dire un dono, una testimonianza, e questa testimonianza, questo dono dovrà essere l'antidoto alla solitudine. Esattamente, le dona quello che non ha mai avuto, ma soprattutto quello che non ha mai voluto, lei se ne fa quasi una colpa, come ho potuto io mettere al mondo un figlio quando avevo deciso, dopo tutto quello che ho sofferto, di non farlo, quindi la solitudine è uno dei temi, anche nel personaggio di Mauro, di Mauro Ferrone mi viene in mente appunto c'è questo abbandono, quasi un dolore, l'abbandono per il lutto, la solitudine, e prima dicevo anche che è un romanzo di speranza, perché il dolore del ricordo si cerca quasi di, si capisce che sia bene convertirlo nell'eterna gratitudine per averlo vissuto in realtà, quel ricordo, invece che farlo ossidare, ed ecco che in Idaira questo succede, perché la domanda portante all'interno del romanzo è, dopo che la morte mi ha perseguitata, mi ha tolto tutto, c'è un modo per fregarla, per raggirarla, come faccio a fregare la morte? Ed ecco che lei trova questa risposta dopo aver perso Luca, si mette in moto tutta una macchina per proteggere questo dono che Luca le ha lasciato, cioè questa bambina che verrà trasportata all'interno della narrazione fino alla fine, conoscendo quasi tutti i personaggi poi, no? Sì, tutti i personaggi, ma non dimentichiamo di mettere di nuovo al centro dell'attenzione, al centro di questa conversazione, quel dannato pappagallo, quel dannato pappagallo come a un certo punto Luca chiede, chiede soprattutto, non fa che chiedere di quel dannato pappagallo, che è veramente una presenza importante, a volte anche ingombrante perché quella presenza è anche molto simbolica Leonardo Di Santo. Sì, tantissimo, è una presenza che troneggia all'interno di casa su questo dipinto che già dall'inizio è l'unica cosa che non piace è Daira, dopo anche che ha risistemato casa e lui non vuole toglierlo perché ricorda un pochino dei momenti vissuti durante la sua infanzia, quando i suoi genitori è così, sono separati e il pappagallo è effettivamente un motivo portante, un motivo portante per tutto il romanzo ed è uscito fuori, guarda ti rivelo questo aneddoto perché io in realtà inizialmente era nata con questa figura che collegasse tutto il romanzo, però ad un certo punto ho anche avuto dei dubbi, tant'è che in una settimana dove dovevo risolvere questo dubbio si sono palesati alcuni indizi che non ho potuto davvero far finta di non vedere perché sono comparsi da ricami sui limoni, in un ristorante a una vetrata dove stavano impressi tutti i pappagalli finché poi non sono andato e lì mi è venuta anche l'idea del quadro all'interno della casa, sono andato dal dentista e ho trovato questo quadro gigante del pappagallo il terzo giorno su quattro e ho detto ok, allora deve proprio farne parte altrimenti… È il destino che me lo indica. Sì sì, questo è stato, guarda da un lato bellissimo perché mi ha semplificato i dubbi dall'altro terrificante. Eh sì, certamente, poi questa storia è una storia che coinvolge, coinvolge molto noi lettori in questo esordio narrativo di Leonardo Di Santo per Giulio Perrone, la perfezione è solo per chi ha ormai imparato a vivere la vita senza più avere alcuna aspettativa, questa frase è una frase importante, a chiusura ogni volta che chiudevo il libro me la riguardavo e mi chiedevo come la perfezione potrà arrivare, se mai arriverà per i da ira, lo scopriamo solo leggendo questo romanzo Il Valzer del Pappagallo, ma noi abbiamo parlato di alcuni protagonisti, ma io vorrei semplicemente mettere per esempio due piccole presenze che sono anche molto belle, la signora Angeletta, lo zio Leandro, sono delle presenze confortanti e quindi è bello che ci siano anche queste presenze. Leonardo Di Santo, prima di salutarci, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro che sto portando avanti da un po', l'ho tenuto accantonato, però ad un certo punto sai come funziona, bisogna imbattersi, prenderlo e affrontarlo, quindi Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan che ho sempre tenuto lì, l'ho acquistato almeno 6-7 anni fa, ho avuto sempre letture più urgenti, però questa volta ho detto dai lo iniziamo e l'abbiamo iniziato 3 giorni fa, sta procedendo. E da quanto tempo era lì questo romanzo? Era lì da 6-7 anni, poi sai quando lavori a qualcosa, a un manoscritto bisogna un pochino dedicare la mente a quello, poi si fanno un po' di ricerche, quindi la lettura a volte si interrompe, a volte ricomincia, bisogna essere lucidi e per alcune tematiche, alcuni libri importanti, cerco sempre dei periodi adatti. Il tempo è un bastardo, quindi è il tempo giusto per ritrovare questo romanzo, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato, Leonardo Di Santo e buona giornata. Grazie a te Livio, al posto delle parole, grazie, grazie a tutti.